Raccolta di firme per riportare le preferenze nell'ambito della legge elettorale, abbiamo detto di Teramo, ma anche a Sant'Egidio, così come in altre piazze sarà possibile firmare. Sì, abbiamo voluto idealmente unire la vibrata al capoluogo, scegliendo un po' Sant'Egidio come comune simbolo per questa iniziativa, proprio per dare la sensazione di un intero territorio nostro, della nostra provincia, che spinge il Parlamento a compiere questo passo. In realtà credo sia un passo atteso non soltanto dai teramani, dai cittadini di questa provincia, ma da tutti gli italiani. Parliamo sempre di una politica distante, di una politica che deve cercare di riconquistare posizioni e la fiducia dei cittadini. Credo che questo sia un passo che andrebbe in quella direzione. Stando in mezzo alla gente, io, Paolo, sentiamo come i cittadini vogliono scegliere, vogliono poter dire a loro, vogliono poter contare e determinare quello che poi i governanti andranno in qualche modo a decidere. È evidente che l'attuale legge elettorale crea un muro invalicabile rispetto a tutto ciò e deve essere abbattuto. Quindi con questa raccolta firme vogliamo incoraggiare i nostri parlamentari, a partire da quelli del Popolo della Libertà, che hanno presentato un disegno di legge in tal senso, dicendo che i cittadini si aspettano questo, fatelo subito, perché il tempo purtroppo ormai non è molto, ma fatelo, assolutamente fatelo, perché questo significherebbe cominciare a ripercorrere al contrario quella strada che ha allontanato la politica dai cittadini, riavvicinandoli, riconquistando la fiducia e arrivando con un clima probabilmente più sereno alle prossime elezioni politiche che, come tutti ben possiamo immaginare, saranno un crocevia fondamentale per il futuro del nostro Paese. La legge elettorale rappresenta comunque un tassello importante, non è forse il più importante, ma comunque un tassello importante ed è un segnale che i cittadini, ma anche noi, ci attendiamo dai nostri parlamentari. Grazie a tutti.